Il Centro Culturale Umana Avventura propone spunti di riflessione sul fenomeno migratorio, sempre crescente anche a livello locale, esponendo la mostra Migranti, la sfida dell'incontro, già allestita presso il Meeting di Rimini 2016 ed ora a Lugo presso l'archivio storico del Consorzio di Bonifica dal 20 aprile alla 3 maggio. Qual è il messaggio che emerge da questa mostra? Noi non volevamo dimostrare nessuna tesi politica, sociologica, volevamo semplicemente invitare ad avere uno sguardo umano su questo fenomeno, che è un fenomeno fatto da uomini, donne, persone. Il messaggio è quello di considerare i migranti anzitutto come persone, come nostri simili. E in questo, seguendo un po' anche il suggerimento che più volte ha dato Papa Francesco, che ha detto e continua a dire che prima che numeri, prima che problemi, sono volti, sono nomi, sono storie che vanno ascoltate per capire da dove vengono, che cosa li spinge, che cosa li muove e che domanda sono per la nostra società e per le nostre persone.